Siamo molto felici di comunicare che qui a Santa Lucella e ai Santi Filippo e Giacomo partirà una mostra molto molto interessante. Dal sabato 29 aprile al 4 giugno ci sarà un focus su litografie e incisioni antiche ma soprattutto da un titolo molto particolare che è per il viaggio in paradiso Santi Santini e Anime del Purgatorio. L'idea di questa mostra ovviamente è venuta in mente analizzando questo materiale splendido bellissimo dell'archivio Lembo e ovviamente fra queste sample che vediamo qui al centro c'è appunto questa qui fra le più particolari che danno proprio gli orari del viaggio in paradiso quindi sono delle vere e proprie istruzioni che probabilmente servono a tutti. L'altro aspetto più importante poi è ovviamente il culto delle anime del Purgatorio e sappiamo che ovviamente è un culto tutto napoletano, qui a Santa Lucella c'è il testio con le orecchie, simbolo ma in realtà il culto delle anime del Purgatorio prende tutta la città, ci sono dei luoghi bellissimi e non a caso abbiamo anche ritrovato una delle lettere che per tradizione le anime del Purgatorio avevano inviato a noi perché chiedevano aiuto e qui è proprio spiegato il culto delle anime del Purgatorio ed è una lettera della congrega di Verteceli. Ma c'è anche per esempio la coronella, l'insuffraggio delle anime del Purgatorio queste anime che di lunedì hanno bisogno ancora di più del rifrisco perché è il giorno più lontano anche dal sabato quando la Vergine scende nel Purgatorio scelcono insieme agli angeli le anime da salvare e le portano su in paradiso. E a proposito di paradiso, ecco qui un pezzo bellissimo dove ci sono anche qui le istruzioni e suggerimenti per non finire all'inferno, potremmo dire quasi un antenato del gioco dell'oca religioso. C'è una collaborazione con Massimo Faella, con una parte del mio archivio sacro che in questo caso è formato da una quarantina di stampe delle anime del Purgatorio oltre a una selezione di santi ricamati dalle suore napoletane nella chiesa di San Filippo e Giacomo. Direi che per me dopo l'inizio delle esposizioni fatte nel mese di agosto dell'anno scorso all'Arciconfraternita di Santissimo Crocifisso a Piazza San Gaetano è stato l'inizio di una lunga cavalcata di tante mostre grazie anche a Rosario Martuscello per arrivare qui a Santa Lucella dove c'è il massimo connubio fra la litografia napoletana, zona dei Librai, dove prima del 1860 erano presenti un centinaio di stampi di litografie e poi anche, quindi la presenza di queste stati, anche il connubio fra il San Biagio, la famosa reliquia che portarono nell'VIII secolo d.C. in occasione della rivorti con Ocrasta alle suore armene, con il tesco con le orecchie.